Pesaro e la Vitrifrigo Arena sono la città e il Palasport che ospiteranno le finale di Coppa Italia di Basket 2021-2022. L'assegnazione ufficiale è stata annunciata questa mattina dalla Lega Basket e dal suo presidente Umberto Gandini contestualmente alla conferenza stampa di presentazione del campionato di Serie A tenutasi all'Unipol Arena di Bologna. Un campionato che partirà questo weekend. Un motivo d'orgoglio per la città che torna al centro della palla spicchi nazionale come testimoniato anche da un post su Facebook del sindaco Matteo Ricci. Le final eight si terranno alla Vitrifrigo Arena dal 16 al 20 febbraio 2022. Final eight che tornano in città a soli due anni dalla manifestazione che venne additata fra gli amplificatori dello stato di pandemia nel territorio che fu dichiarato proprio alla fine di quelle febbraio 2020. Pesaro è chiamata dunque a una manifestazione con tutto il rigore di margini di sicurezza richiesti aspettando di comprendere se e come cambierà la capienza degli impianti sportivi da qui a febbraio. Sportivamente parlando le final eight si riproporranno invece ad un anno da una edizione straordinaria per l'AVL che arrivò alla Kermeste Nutes a Milano dopo nove anni di assenza dalla competizione. Una coppa in cui la squadra di Repesia fece saltare il banco dello stupore prendendosi addirittura la medaglia d'argento issandosi fino alla finale persa con l'Olimpia. Per il nuovo coach Asapetrovic l'ingrato compito di provare a ripetersi. Complicatissimo perché arrivare alle final eight significa arrivare nelle prime otto in classifica alla fine del girone d'andata. Il campionato inizierà domenica alle 18 in trasferta a Sassari e i pesaresi hanno già parecchio da farsi perdonare dopo la coccente dei bacli in Supercoppa della settimana scorsa.